C'è una pornostar che si chiama Oriella Lamonella che sta girando un film porno in un bosco, a un certo punto gli scappa ad andare al gabinetto e dice, ma come fa? Dice, andrò dietro questo cespullo, dice che va dietro questo cespullo, fa tutto il che deve fare, a un certo punto non sa come fare a pulirsi e prende una foglia di una pianta che c'è lì e senti fare, ah, ora si, chi è? Continua a pulirsi e dice, brava Oriella, ma chi è? Dice, sono il tuo culo Oriella, e che tu vuoi? Dice, ah, finalmente dopo tanta carne un po' di verdura ci voleva.